Buongiorno, sono Flora Peivandi, responsabile per il Centro Malattie Rare al Polichilinico di Milano. È un piacere invitarvi tutti di raggiungerci il giorno 28 febbraio per celebrare la giornata per le malattie rare. Anche quest'anno al Polichilinico abbiamo la possibilità di discutere insieme lo stato di arte per quanto riguarda la cura per le patologie rare. All'interno di questa giornata avremo la possibilità di avere i professionisti per ogni patologia, l'associazione dei pazienti, anche i rappresentanti della Regione Lombardia, insieme ai nostri dirigenti. Potremo discutere che cosa è stato fatto e quale sarà il futuro per le malattie rare. Discuteremo di nuovi clinical trial, di gene therapy e quali sono le patologie innovative per la cura di queste patologie. La vostra presenza è assolutamente necessaria. La vostra presenza è assolutamente necessaria.